Sei un attore? Duetta questo video per scoprirlo. Uno script in 50 secondi. Questa è la voice over acting challenge. Pronti? Via! Sono io, William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi? E uomini liberi sarete. Senza libertà cosa farete? Combatterete? Non ci abbatterà! Contro quelli, no! Certo, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo, almeno per un po'. Agonizzanti in un letto fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui, sul campo, a urlare i vostri nemici che possono togliervi la vita, ma non vi toglieranno mai la libertà.